Il mio padre voleva che facessi contabile nell'azienda di famiglia. Come fa quella canzone di Leonard Cohen? C'è una crepa in ogni cosa. È da lì che entra la luce. La mia luce è entrata quando avevo sei anni. Disegnavo teste e capelli. Avevo due cugine più grandi che facevano le parrucchiere. Un giorno mia cugina ha preparato un colore. Ho visto fare un colore. Ho visto nascere una bella cosa. Allora a 14 anni vado a scuola per imparare il mestiere di parrucchiera. I miei dicevano, vedrai che si stufa. Siamo fatti di residui di stelle. Mangiamo il sole. E il colore mi incanta sempre. È una passione che cresce ogni giorno di più. Anche la ricerca della bellezza fa parte della mia vita. Cos'è la bellezza? Amarsi, accettarsi, cocolarsi, migliorarsi. Anche grazie a me. Eccola la bellezza. La bellezza è il mistero. Tutto nella chioma slegata. Nel capello ribelle che lascia fluire il vento. Un ambiente grande. Un salone che ha i colori al centro. E una squadra di collaboratrici con la passione negli occhi. È un sogno pieno di innovazione. I colori realizzati dalle piante tintorie. Una vera e propria spa. Le giornate a tema. La biblioteca per le clienti. Tanto per cominciare. E non mi fermo qui. Il mio salone oro, nero e bianco sarà un luogo di arte e di cultura oltre che di benessere e bellezza. Esposizione di quadri e di foto. Uno spazio video con le immagini e le storie delle mie clienti. È una bella responsabilità costruire la felicità. Io lo faccio con amore. Sempre. La vibrazione. La vibrazione. Il mio salone oro, nero oltre che di Satria.